Hanno fatto una partita a Gagliarda, da Avellino, hanno regalato a loro stessi, a questi magnifici tifosi che aspettavano questa vittoria da tanto tempo, che ci hanno sostenuto anche a Vicenza, oggi, fino al 95esimo. Sono contento per loro soprattutto, perché fondamentalmente io difficilmente trovo giustificazioni, ma questi ragazzi meritavano almeno 2-3 punti in più a questo punto del campionato. Siamo stati un po' sfortunati, ho detto dopo Vicenza che forse il vento era cambiato e oggi il vento è cambiato. Dobbiamo continuare a lavorare, c'è da crescere tanto, i ragazzi lavorano tantissimo, c'è grande disponibilità e quindi c'è tanto da crescere e ancora da migliorare. Volevamo dedicare questa vittoria al Presidente, al Diretto Sportivo che hanno subito questi deferimenti in questa settimana, le problematiche dello stadio. Non è stata una settimana facile, però i ragazzi sono rimasti concentrati, hanno pensato solo alla vittoria che volevano a tutti i costi e l'hanno ottenuta. Mister Raglieri, ad una mia precisa domanda su Daniele Verde, sorrideva, diceva soprattutto basta con questo tormentone. Era sicuro di far giocare Daniele Verde ed era sicuro della prestazione quest'oggi di Daniele Verde? Io sono qui per aiutare tutti i ragazzi, se non ho fatto giocare, non ho dato l'opportunità di giocare dal primo minuto a Daniele e lui lo sa perché. Questa settimana forse ha capito il consiglio, lo chiamo consiglio, che io ho dato, si è allenato in modo straordinario. L'ho messo in campo, ero convinto di metterlo in campo sabato, indipendentemente se c'erano o culo o no, perché mi ha dimostrato che vuole essere parte integrante di questi ragazzi e vuole dare alla squadra, non a se stesso, il suo grande contributo. Lui di qualità lo sa e lo so anch'io che c'ha, però lo deve mettere a servizio della squadra, allenandosi bene, comportandosi bene e questa settimana l'ha fatto in modo esemplare e i risultati si sono visti. Dicevamo, mister, un avellino cinico, spietato, è quello che volevamo perché in 50 minuti tre gol, pensare che in precedenza ne avevamo realizzati solo due in sei gare, non c'è solo Daniele Verde, c'è finalmente Matteo Ardemanni che si è sbloccato e un Idrissa Camarà che è stato davvero una sorpresa in positivo. Pensiamo che questo è l'attacco tra virgolette di riserva perché abbiamo un Castaldo e Moculo infortunati. Le riserve non ce ne sono in questa squadra, dico solo che questa squadra forse è la più giovane del campionato, nessuno lo dice, lo dico io adesso, c'è bisogno di crescere, stanno crescendo questi ragazzi tantissimo, io li vedo lavorare ogni giorno, sono contento per Matteo perché ha passato due settimane non facili, è rimasto sereno e convinto che poteva far golle perché i golli li ha sempre fatti, io ho detto di stare sereno perché non sono questi gli errori che contano, sono i golli che farà in seguito. ognuno ha messo le proprie qualità a servizio della squadra, ho visto un gruppo, ho visto una squadra che voleva a tutti i corsi la vittoria, però bisogna già metterla alle spalle come abbiamo messo le sconfitte, i pareggi e pensare già a Perugia perché ci aspetta un'altra battaglia e noi dobbiamo continuare a crescere, bisogna fare un passo indietro, bisogna fare un altro passettino in avanti. Mister, se la conosciamo giusto un poco, lei è comunque arrabbiato soprattutto per i due gol presi perché ci tiene tanto alla solidità difensiva di questa squadra, a parte l'errore singolo evidente ancora una volta di Gonzales, anche nel finale abbiamo subito quel secondo gol che poteva riaprire il gioco e fortunatamente era il 93. Mi dà fastidio soprattutto il secondo gol, noi potevamo gestire meglio, ho rivisto le immagini, forse c'era fallo di Ebacua su Gidai però ci può anche stare, la squadra deve porsi anche questo obiettivo di soffrire e di non subire, perché ci sta anche che la Provercelli metta 5 attaccanti e tu debba soffrire fino alla fine mette le palle lunghe a fare mischioni con Ebacua e con gente di fisicità che ha in squadra e ci sta di soffrire, però deve controllare la gara, negli ultimi minuti abbiamo perso un pochettino la gara di mano però sono contento, anzi felicissimo per i ragazzi per questa vittoria. Grazie 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 Grazie